Ciao a tutti, il 10 febbraio scade il termine per la presentazione delle domande per partecipare al Servizio Civile Universale. Si tratta di 3.300 posti che ANPAS mette a disposizione per i giovani tra i 18 e i 28 anni. Nel corso della storia ANPAS ha messo a disposizione 21.000 posti. L'attività che i giovani svolgono all'interno delle nostre pubbliche assistenze riguardano la protezione civile, l'assistenza sociosanitaria, il servizio di ambulanza. Sono tutte attività che vengono fatte con tutte le dovute attenzioni e con la massima sicurezza. Tutti ricevono una formazione di base, una formazione specifica per quello che stanno facendo. Perché fare il servizio civile? Perché è un'esperienza bella, è bella per chi la fa, è bella perché si acquisiscono competenze, competenze che potranno essere spese all'interno del mondo delle pubbliche assistenze, ma soprattutto nella futura attività professionale di ognuno dei giovani. Si restituisce un qualcosa e si conoscono più da vicino i bisogni della propria comunità, per diventare anche un domani cittadini più attivi, più partecipi. Insomma, presentate le vostre domande in tutte le pubbliche assistenze in tutta Italia entro il 10 febbraio. E in bocca al lupo a tutti!